Francesco Fiore, rush finale verso le amministrative di Padova, l'ultimo appello agli elettori. Per l'Italia e per l'Europa, laddove già funzionano, siamo convinti che possono portare Padova fuori dalla crisi. Io sono stanco di fare comizi, sono stanco di fare campagna elettorale, non vedo l'ora di mettermi al lavoro per fare le cose che abbiamo detto e che diciamo da mesi nel nostro programma. Noi abbiamo anche una cosa in più, Padova 2020 è un movimento totalmente autofinanziato, noi abbiamo una grande libertà e la libertà è un lusso in politica, abbiamo la libertà di poter scegliere veramente le persone sulla base del merito, quelle competenti e quelle oneste. Questo merito io lo userò per la prima iniziativa che è quella di nominare degli assessori, siamo pieni di persone dinamiche, energiche, competenti in questa città e noi vogliamo portare i migliori al governo di questa città. Lo possiamo fare, Padova 2020 lo può fare perché non dobbiamo rendere mezzo a favore a nessuno.